Quanto è aumentato la ZTL, lo sapete? Lo sapete quanto paga un artigiano che ha un deposito di materiale all'interno del primo municipio l'anno per entrare col suo furgoncino dentro il suo magazzo di magazzino? Lo sapete quanto paga l'anno? 2.800 euro, lo sapete quant'è 2.800 euro? Quasi due stipendi e mezzo, lo sapete quanto paga un autobus superiore a 8 metri l'anno per percorrere tutti i giorni il centro storico di Roma avanti e indietro con un permesso totale? Lo sapete con 120 persone a bordo? Lo sapete quanto paga? 2.300 euro l'anno! È questo lo scandalo! È un artigiano 2008, è un autobus 2003 e gli dà il biglietto per entrare e per uscire! Ma chi cazzo sei?